Ogni mese proponiamo il nostro corso di apertura e gestione, quello organizzato in collaborazione tra il gruppo di Apriro Bar e la Scuola Espresso Academy, anche in inglese, ed è questo che ci ha permesso di incontrare un sacco di ragazzi da tutto il mondo che vengono qua per i nostri corsi e perfino di vedere questo interessante progetto, lo vediamo qua giù, benché scritto in inglese è un progetto che, se vedrà la luce naturalmente, verrà aperto, pensate, vicino a una fermata della metropolitana di Hong Kong, un posto veramente frenetico, un luogo veramente intensissimo come passaggio. Intensissimo il passaggio e molto ben sfruttato in questo contesto, tanto che potremmo noi perfino evitare, magari in qualche luogo di altrettanto intenso traffico, potrebbe essere una grande fermata di una stazione degli autobus, di una metropolitana, in una grande città italiana. Beh, lo vediamo, è collocato veramente in un concetto di caffetteria molto ristretto, la superficie interna, quella dedicata al pubblico, non è più grande di circa 15 metri, 15 metri quadrati. A occuparlo in buona parte è il banco, naturalmente, non ci sono posti a sedere. E vediamo che è stato molto interessante il fatto di aver diviso chiaramente la parte di cassa con le vetrine correlate e la parte dedicata al barista, quindi la parte in cui si fa caffetteria. Curioso semmai in un contesto così frenetico il fatto di essere stato dedicato uno spazio all'area pure over, all'area brewing, quindi quella dove verranno preparati i V6 e altre preparazioni in filtro. Per il resto è interessante anche vedere come c'è un'area di passaggio che in questo momento stanno poi ipotizzando in due direzioni i ragazzi che apriranno questo locale. La prima è quella che posso ospitare un piccolo appoggio, una piccola mensola dove i clienti possono fermarsi a mangiare qualcosa rapidamente, ma vedete che in estate questa può essere anche aperta, Hong Kong fa caldo quasi tutto l'anno, e per permettere un ulteriore passaggio, forse per mettere una defluizione più comoda della clientela. Sicuramente un locale pensato in spazi molto piccoli, ma ha destinato a ospitare un gran numero di persone, soprattutto to grab e prendere al volo una tazza da portarsi via.